Salve a tutti, siamo con Alessandro Capuano, nuovo candidato consigliere di Fribacoli. Come sempre vi presentiamo i nostri candidati a diversi mesi di distanza da le elezioni come segno di trasparenza perché la rivoluzione culturale di cui questo paese ha bisogno parte anche da queste piccole e grandi cose. Alessandro è un laureato in ingegneria meccanica, quindi è una delle tante giovani professionalità che sono presenti a Bacoli e che appunto possono dare un grosso contributo a questo territorio. Dov'ora ad Alessandro per presentarsi ai cittadini. Salve a tutti, come ha già detto Giosi, sono Alessandro Capuano e avendo da sempre vissuto a Bacoli scelgo di candidarmi con Fribacoli perché sono stanco di vedere ogni giorno un nuovo amico o conoscente che viene a dirmi di voler abbandonare questa terra in quanto questa terra non offre nessuna prospettiva per il suo futuro e magari l'unica cosa che è stata in grado di offrirgli è stata soltanto la desolazione totale sia a livello sociale che a livello morale. Io amo questa terra e credo che questa terra sia piena di risorse anche perché avendo viaggiato sono convinto che anche questo paese non abbia nulla da invidiare rispetto ad altri paesi e ad altre realtà che comunque ci sono nel mondo. Vorrei raccontare un episodio che mi è stato narrato appunto da un mio amico che lavora all'estero che ogni giorno quando andava a lavorare apriva il suo portatile, aveva come immagine del desktop, insomma una fotografia di Bacoli e tutte le persone che vedevano queste immagini gli chiedevano sempre ma come tu hai lasciato un posto così bello? E appunto il paradosso è perché dover lasciare un posto così bello? Perché praticamente la cattiva amministrazione che c'è stata in questi anni non è stata capace minimamente di sfruttare le risorse di questo paese, ma non per mancanza di capacità, ma per mancanza proprio di volontà di sfruttare queste cose. E appunto credo che il danno più grande che sia stato fatto alle nuove generazioni di ragazzi appunto bacolesi sia stato proprio quello di spegnere insomma l'entusiasmo negli occhi dei ragazzi e la loro voglia di fare. Entusiasmo che fortunatamente non si è spento in questi ragazzi di Fribagoli che hanno avuto la determinazione di lottare per affermare quella che è la bellezza di questo territorio. Una lotta che hanno dimostrato in più occasioni senza fini di lucro e una lotta anche accompagnata da valide proposte, infatti credo che non ci sia bisogno attualmente soltanto di onestà ma anche di valide proposte per affrontare i problemi di questo paese. Insomma lo ripetisco, amo questo paese e credo in questo cambiamento e sono disposto ad offrire tutte le mie capacità per appoggiare questi giovani e cercare di migliorare questo paese che veramente merita qualcosa di diverso da quello che c'è attualmente. Concludo con la speranza che un qualcosa di simile a quello che sta accadendo comunque adesso a Bacoli, con Fribagoli, possa accadere anche a livello regionale e nazionale perché è qualcosa di veramente bello e in cui veramente vale la pena credere. Insomma voglio ringraziare Josy per appunto quello che ha fatto e confermo il mio sostegno. Un saluto a tutti. Salute a tutti.